Il bando di gara per la realizzazione del secondo lotto della Pedemontana, Bruzzo Marche, è stato chiuso. L'ha annunciato oggi il vicepresidente della provincia di Teramo, Giulio Sottanelli, facendo un riassunto delle opere viarie programmate nel 2008. Tanti infatti gli interventi previsti, 61 che sono stati appaltati. C'è per un milione di euro la ramba di accesso, di collegamento della Pedemontana direttamente con la Teramo Mare. Abbiamo due lotti della Pedemontana da 15 milioni di euro che già sono stati appaltati e quindi poggeremo la prima pietra nel mese di marzo. Abbiamo completato il bando che sarà pubblicato nelle prossime ore per gli altri 18 milioni di euro. Abbiamo avvicinato il Teramo Capoluogo alla Vibrata e viceversa. Sottanelli traccia anche un quadro sulla viabilità della provincia. In questi cinque anni sono state realizzate due importanti infrastrutture. La Teramo Mare, quindi un'infrastruttura importante per la nostra provincia e non soltanto in quanto ritengo che sia importante per un intero sistema viario che vada oltre la nostra provincia. A questo secondo e terzo lotto della Teramo Mare si aggiunge in maniera importante anche il raddoppio della Villa Vomano Teramo, che proprio in queste ore sta trovando le ultime fasi di lavorazione. Ritengo che per fine aprile si possa arrivare a transitare anche nella sua totalità, nelle doppie corsie, quindi tutta la A24, quindi fino a Mociano.